Ciao a tutti, benvenuti dal stream, io sono l'atroxment e questo è Five Nights at Freddy's 3 Allora ragazzi, nell'episodio precedente abbiamo, diciamo, finito le prime due notti E adesso, in pratica, la terza notte, visto che alla seconda notte ho avuto così tanti problemi che ci sono perfino morto Credo che la terza neanche ci arrivo alla fine, proprio mi ci arrendo, non lo so Comunque vada, andiamo direttamente alla terza notte Come sempre, come sempre un cavolo perché non so niente Ovviamente ci sta, ci sta Alfred che ci dà fastidio Hello, hello, vaffan bene Allora, comunque vada, avrei capito che Springtrap è un pedofilo che ovviamente sente la voce dei bambini e va verso di loro Ciao a te, Springtrap, guarda, parlo di te, appari, ma perché appari, ma chi ti vuole? Scusate, lo dovevo fare, era troppo forte Che cos'è? Freddy! Ciao Freddy, tanto stai da, non mi puoi fare niente Queste qua sono le allucinazioni Madonna, i funghetti di Far Cry 3 Basta fumarsi i funghi, per favore Springtrap, vieni qua Bastardo maledetto, ti ho ritrovato No, credo che non era quella la cosa da fare Quella di sicuro non era la cosa da fare Questa notte già lo sento che l'ho persa Ma l'ho persa in modo violento Però almeno è tornato Springtrap, bene Almeno quello Ciao Foxy, fammi un po' di luce Ma Foxy non sta qua, tipo No, qua ci sta soltanto Freddy, basta Non trovo più Springtrap, dove sei? Springtrap Cosa devo fare? Vai qua, non lo so, vai ovunque Non stare davanti a me, per favore Sono morto, sono nella merda Non so di stare già nella merda Eccolo, salva a te No, vai via, vai via Non lo so, vai qua Non ci vuoi proprio andare Torna qua per favore Audio error, no audio error Sono nella merda Adesso, ragazzi, adesso tanto lo so che mi spunta E per forza 3, 2, 1, 0 Bastardo, maledetto Ti stupro la famiglia Se mi vieni addosso No, non andare qua Ventil... ma vaffan bene Pure le ventilazioni Mi si mettono contro Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Le ventilazioni possono aspettare Ventilation Perché? Le sto riparando State calmi Exit Sono le 3 di mattina Intanto da me stanno sbattendo le porte Perché c'è vento Bravo, vai là Adesso vai qua Segui la voce dei bambini Che vogliono essere stuprati Bravo Non è vero Non gli sta seguendo Dove sei? Ah, mio Dio Audio error Ciao Come stai là, eh? Bello, vero? Mi ammazza Ti ho capito un cavolo di questo gioco Cioè Non c'entra niente con Il sistema di FNAF 2 Scusate Niente Non arriva Non mi segue Non mi ascolta Non era più come una volta Sialo Si Si Leggialo Non ti guardo Non ti voglio guardare Non ti voglio guardare Ti sto ignorando Ti sto ignorando Ti sto ignorando Bastardo Maledetto Ok Funziona Camera system Springtrap Vieni qua E vaffan bene Tutto il mondo Error Ma non lo so io Audio Vai con l'audio Pure la ventilazione Dovevo prima fare la ventilazione Dopo la cosa Dopo l'audio Vai Vieni qua Ti ho detto C'era un Balloon Boy Selvatico Che figata Che è What the fuck Ho cliccato la torta Ed è scomparsa Vai via Vai via Vai via Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Per favore No No sta ancora qua Bastardo 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Audio error Merda Ci rimuoglio di nuovo alle 3 di mattina Per favore no Exit Bastardo No No ti sto ignorando Ok audio vai qua per favore Bravo Vedi che una volta ogni tanto serve a qualcosa Cam Cam 5 Vai Video error Bravo C'è Bravo Video error un cavolo Perché mi serve il video Bastardo Bastardo No C'è Non lo trovo Non lo vedo Da nessuna parte Non lo vedo Vieni qua Ecco Stai qua Stai tutto il tempo là Per favore Non ti muovere Meno male che ci sta freddi ad alzarmi il morale Questo freddi A te non ti vuole nessuno bene Vediamo No 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 Tu torni là Tu torni là Non ci siamo capiti Ma infatti se spammo tutto il tempo Balloon Boy là Che succede? E la torna Posso spammare Balloon Boy Godipopolo Non ci sta nessuna Allucinazione Torna Audio error Ma almeno ci sta Ok Bene Credo di aver capito più o meno come superare almeno la terza notte Ma se la terza notte è così complicata Come faccio a fare la quarta? Che vuoi fare? Sto morendo Che errore stavolta? Camera Bene Dai metti a posto le videocamere Quello che vuoi Play audio Torna Stai qua tutto il tempo Bravo Finché ti vedo qua Io sto calmo Torna qua Audio error Però almeno stai qua Bene Ragazzi Credo che spammando tutto il tempo Balloon Boy da quella parte Posso vincere questa cosa Non ne sono del tutto sicuro Comunque credo di sì Exit Torna Stai tutto il tempo là Bravo E non ti muovere Stai bene là Non ti preoccupare In pratica Chiudi la ventilazione E poi fai là Io non si muove più Torna Mua Niente Nessuna allucinazione Più felice di così Non posso essere Guarda Torna qua Ho vinto il mondo Bene Sono le 3 di mattina E sto messo in una situazione Proprio meglio di così Non può essere Veramente Vediamo Torna Torna No Dove sei Torna là per favore Stavo molto bene là Bravo Mamma mia Pure Foxy ci si mette Mio Dio Mio Dio No Barun Boy No Dai sono le 3 Ma perché non finisce mai questo tempo Oh sono le 4 Bene Se ora mi spunta qualcosa Non ti sto guardando Camera system Camera system Non guardare le allucinazioni E non mangiare funghetti strani E non mangiare funghetti strani Per favore Play audio a caso Non mi importa più Devi stare qua Per favore Non ci sei Ok Continuo a fare play audio qua Finché non mi cosa Magari torna indietro Scena del gatto Cut scene Si Vai Perché vado sempre a sinistra Andiamo giù dai Andiamo con Cica questa volta Sempre qua La marmellata spalmata sui tavoli Per bene Dove stanno Ecco le mie ciabatte che si muovono Vai Vai su Segui quello Un po' di cocktail Come vedo Dei cappelli Triangoli Illuminati Vai su Yeah Error Scappa Corri Corri Magari non ti preso Non è vero Ti ho preso ugualmente Adesso ti stupra anche a te Bene Quarta notte Ma anche con il cavolo No Nessuna quarta notte Per questo episodio basta Alfred Mi dispiace ma ti ho sempre odiato Perché mi crasha il gioco Non ho capito perché Vabbè Sti cavoli Ho qualche problema di sistema Non lo so Non ne ho più paglie di idea Comunque Come sempre ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Date una zampata sul mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Mi è partito il fuoco Non predire niente What the fuck ragazzi Il fuoco così Non l'ho mai visto Ho premuto un pulsante Ho premuto Mi vuole male E noi ci vediamo nel prossimo video E noi ci vediamo nel prossimo video E noi ci vediamo nel prossimo video